Le aziende del settore agroalimentare siciliano potranno tirare un sospiro di sollievo e facciarsi a nuovi mercati grazie all'arrivo di ben 70 milioni di euro che rientrano nel piano della nuova programmazione europea sullo sviluppo rurale. La somma stanziata mira a favorire la trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli. Le aziende potranno partecipare al bando dal 5 dicembre al 20 marzo. Tra le spese ammissibili anche l'acquisto di attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli, la costruzione, il miglioramento e l'acquisto di fabbricati e di terreni. Questa misura agisce fino a 10 milioni di euro per le aziende, stiamo mettendo in campo 70 milioni di euro che andranno cofinanziate poi da parte delle aziende. Insomma è una misura che dà il via a quell'idea strategica della Sicilia come terra di qualità ma anche come terra che sappia promuovere la quantità delle nostre produzioni. Il miglior lavoro è se viene messo in un altro mondo, cioè un prodotto...